Ciao a tutti, oggi vi voglio far vedere un fenomeno nuovo di quale io non so assolutamente nulla e su questo vorrei tanto parlare con le persone che conoscono bene questi fenomeni. Si tratta di una neve, di un tipo di grandine, non so come chiamarlo, molto strano, che si trova dappertutto, principalmente pensavo che sono dei prodotti chimici che vengono messi alla radice degli alberi nella erba, invece non è vero, sono dappertutto e si comportano come il ghiaccio, perché se io lo schiaccio si scioglie, vi faccio vedere. Ora vi faccio vedere che anche sulla base della ringhiera dove c'è il cemento? C'è anche dall'altra parte, nel giardino, però non riesco a riprendere lì. e ecco... Vedete? Qua hanno iniziato a sciogliersi, però si scioglie molto, molto lentamente, perché io sono qua da tanto tempo e queste cose non si sciogliono così veloce, perché non è freddo, non è il gelo per dire no, questi rimangono, no. ora, voglio andare avanti dove c'è la cosa per il gas, ah ecco, ci sono anche qua sopra, allora sono venute dall'aria, ecco... vedono... sono dappertutto, io ho mai visto una cosa del genere, mai, non so di che cosa si tratta, probabilmente un'altra... un altro veleno, ah ecco qua, quante ce ne sono... ora, guardate l'asfalto... è asciutto... diciamo così, se queste cose sono la grandine, e non lo sono, giù dovrebbe essere bagnato, tutto bagnato, dovrebbe essere l'acqua, invece l'acqua non ce n'è, se era venuta prima, ma queste, così piccole come sono, dovrebbero essere già sciolte, no, invece non lo sono. Ecco, queste sono le stranezze, vediamo cosa mi dice la persona abilitata con quale, cercherò di parlare domani, poi vi faccio vedere. Ciao a tutti!